Si parla della costituzione di sinistra italiana, SEL oggi a Pescara incontra i cittadini anche per spiegare questo nuovo modello di politica che sta nascendo. Vogliamo mettere insieme le forze attualmente disperse, disunite, dell'arcipelago della sinistra politica e sociale del nostro paese. L'Italia ha bisogno di un partito di sinistra, radicato nel popolo, che abbia una dimensione culturale di governo, che sappia intercettare la domanda di giustizia sociale. Perché in questo paese, come nel resto del mondo, c'è un problema gigantesco che si chiama ingiustizia sociale. E quindi è necessario che si rialzi la testa, che si sviluppi una politica nel nostro paese ispirata a criteri di equità, non più austerità ma solidarietà. Ecco, la sinistra deve rappresentare questo bisogno di giustizia sociale. Crisi che non ha risparmiato in questi anni anche l'Abruzzo. Certamente, in Abruzzo abbiamo centinaia di aziende industriali in crisi, c'è stata una diminuzione di quasi un quarto del prodotto interno lordo derivante dal sistema produttivo. Sono molte purtroppo le aree sociali che reclamano un intervento ispirato appunto a criteri di equità. Basti pensare ai disabili, agli anziani non autosufficienti, a quelle persone che esprimono purtroppo una vulnerabilità sociale molto significativa. Ecco, c'è bisogno di un partito che sia in grado di rispondere a queste esigenze.